100 milioni di dollari è un formidabile effetto pubblicitario dopo usa russia e cina israeli appunto a diventare la quarta potenza lunare e solander si è candidato come modello della metamorfosi tecnologica imprenditoriana a cui ambiva gli sprites da palcoscenico di esplorazione marti a fuggi il satellite si è trasformato nella piattaforma di una flotta di sonde private che garantiscano in tempi brevi a costi ridotti servizi inimmaginabili fino a poco tempo fa a cominciare dagli esperimenti per laboratori aziende ben riuscito si è schiantato poco prima dell'allunaggio ma gli ideatori si sono rimessi subito al lavoro intanto un esempio del nuovo inizio ispirato dalla creatura nata a tel aviv è la società statorettese astrobiotica di pittsburgh l'amministratore delegato john tarton dice che stiamoci creando una ferrovia un servizio di spedizione basso alla luna tra gli clienti già annunciati per il suo modulo peregrino pronto ad accendere i motori nel 2020 non ci sono solo gli atenei come la carne di mellon university ci sono aziende specializzate in telecomunicazione e in comunicazioni satellitari oltre alle organizzazioni di infotainment e di indutainment ci chi pagherà il biglietto per portare sulla luna capsule temporale e chi recidere dei parenti per non parlare del bric a bra che è prodotto con stampanti intradie portato sulla terra come un goloso souvenir basteranno queste prime iniziative ad affermare il business con gli occhi puntati lassù sono già in tanti c'è relativi relativi t space per la costruzione di veicoli a basso costo c'è lsc per l'acquisizione di dati c'è moon hacker per le previsioni saliniche e altri solo nel 2016 rivela la piattaforma di dalle ccb insight i fondi di venture capital americani hanno raccolto 2,8 miliardi di dollari da destinare alle iniziative delle start up spaziali e da soli i cinque partecipanti all'x prize di milioni ne hanno messi insieme alla bellezza di 300 oltre a quelli dei fondi specializzati hanno intercettato finanziamenti d'azienda e organizzazioni ed enti governativi hanno contribuito a creare società commerciali calamitata all'attenzione globale nella rete sono finiti migliaia di studenti negli usa in europa spalancando loro le porte dell'universo stima l'acronimo anglosassone per la materia scientifica tecnologica ingegneria grazie